Il mondo è cambiato e noi della scuola Holden ce ne siamo accorti. Non sosteniamo più che il mondo sta cambiando, ma diciamo con grande forza che il mondo è cambiato. È diventato molto più grande e molto più piccolo. È diventato più grande perché i mercati di riferimento sono diventati molti di più. Il numero di consumatori in giro per il mondo, non solo potenziale ma reale, è diventato molto più grande. Le influenze di valori, culture, comportamenti diversi è diventato molto più importante. Nello stesso momento cosa è successo? È successo che stiamo vivendo, abbiamo vissuto un'enorme gigantesca trasformazione tecnologica. Tutto quello che non si poteva fare ma si poteva solo immaginare 10-15 anni fa, oggi è lì. Ed è evidente che queste due cose, la globalizzazione da un lato e la trasformazione industriale e tecnologica dall'altro, fa sì che le nostre aziende, ovunque esso siano, hanno gigantesche ed enormi nuove opportunità e possibilità. Quello che noi della Holden vorremmo riuscire a fare è riuscire a creare delle persone che abbiano quella capacità di andare in orizzontale, in azienda, a capire quali sono i principi fondamentali. Sono toni diversi, accenti diversi, modalità diverse, strumenti diversi. Ma il racconto sempre e comunque è un racconto che deve andare a toccare le emozioni su dei principi fondamentali veri utilizzando tutto ciò che il mondo oggi ci mette a disposizione. Noi siamo pronti e siamo sicuri di trovare tante persone che vogliono fare questo percorso con noi qui alla Scuola Holden. Grazie. 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 Grazie.